Ciao 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 Quest'oggi faremo una piccola una piccola riunione con i miei amici quest'oggi faremo una piccola riunione con i miei amici quest'oggi faremo una piccola riunione con i miei amici oh ehi salve ragazzi salve ragazzi salve salve ragazzi oh oh ehi salve ragazzi salve ragazzi salve ragazzi siete arrivati prima del previsto. Salve ragazzi, siete arrivati prima del previsto e se mi è concesso di dirvelo. Avete uno splendido aspetto, avete uno splendido, 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 splendido aspetto, avete uno splendido aspetto? Lui è Marco De Rosa. Ciao Marco! Lei è Lucy Martina. Ciao Lucy Martina. Ciao Lucy Martina. E lui è Andre Moore. Di ciao. Ciao. Non so se sei di stagione ma sei molto croccante. Chissà qual è il vostro sapore. Alla prossima. Lucy Martina, tu sei di polvere di sole. Lucy Martina, tu sei di polvere di sole. Tu sei di polvere di sole. Alla prossima. Marco De Rosa. Marco De Rosa. Tu sei di zenzero. Non mi piace lo zenzero. Lucy Martina, tu sei di polvere di sole. Lucy Martina, tu sei di polvere di sole. Tu sei di polvere di sole. E Andre Moore cosa sa? Scrivimelo nei commenti. Tu sei di polvere di sole. Avrei un po' di pesce nel forno. 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 Se qualcuno fosse interessato. No, se qualcuno fosse interessato. 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 Mi piace quando l'acqua rossa viene fuori. 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 Si parlava e si non lo sei… La città è tutta una scala. Se Grazie a tutti. 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 More relax.